buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi è un'edizione dove parleremo di delle novità sulla terza fasciata gradatore di istituto per il triennio 24 27 della terza fasciata per gli anni scolastici il 2024 2025 2025 2026 2026 2027 la prima domanda che ci viene posta e con quale titolo ci si può inserire nel nuovo profilo operatore scolastico ebbene per rispondere a questa domanda dobbiamo dire che l'amministrazione ha fatto un po di confusione perché dava accesso a questa figura di operatore scolastico con un titolo di qualifica professionale riferita ai servizi sociali ma dal 5 di giugno come una facca del ministero è stata pubblicata è stata allargata la possibilità all'inserimento all'operatore scolastico anche con i diplomi quinquennali di qualsiasi natura dal liceo classico al liceo scientifico e quant'altro vediamo come dunque ora inserire questo operatore scolastico e consigliamo a chi volesse ha già inoltrato la domanda e volesse inserire l'operatore scolastico avendo un diploma quinquennale non un diploma di qualifica dei servizi sociali di fare la nulla dell'inoltro della domanda inserire andare a fare l'inserimento per questa nuova figura di operatore scolastico perché l'inserimento non si potrà fare né conferma né aggiornamento perché una nuova figura dove tutti si inseriscono per questa prima esperienza nel triennio specifico che va dal 24 al 27 facendo avanti si entra nel modello di presentazione alla domanda e si troverà avendo inserito questa nuova figura il profilo di operatore scolastico nelle azioni disponibili in questo profilo vediamo che abbiamo l'attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali che è rimasto diciamo il titolo primario principale ma si può entrare anche con un diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o comunque con il diploma di maestro d'arte oppure con il diploma di scuola magistrale per l'infanzia o per con qualsiasi altro diploma di maturità dunque inserendo questo è inserendo i dati del diploma anche di un semplice liceo scientifico si potrà diciamo entrare in questa nuova figura poi servirà la certificazione internazionale di alfabetizzazione che se posseduta si può già subito certificare oppure dichiarare di conseguirla entro e comunque il 30 di aprile 2025 e così ci si può inserire facilmente scegliendo la modalità di accesso che in questo caso e per questo profilo non può che essere la modalità di accesso a e quindi facendo modifica si viene inseriti a pieno titolo su questo profilo e un'altra domanda che ci viene posta dai nostri lettori e quella di riferimento al profilo di assistente tecnico come fare ad associare il titolo di studio tecnico di tecnico con il riferimento dell'area specifica di assistente tecnico ecco c'è un allegato al l'ordinanza di aggiornamento che è l'allegato c che mette in comparazione il titolo precisamente il titolo che si possiede con l'area andiamo a vedere per esempio il titolo di istituto tecnico industriale con lo specifico con uno specifico con una specifica a prendiamo ad esempio il diploma di perito industriale capo tecnico con specializzazione elettrotecnica e automazione andando in quelle allegato ci troviamo che il riferimento la all'area si chiama rr roma roma 86 dunque una volta inserita il titolo di accesso al profilo e dunque esaminato anche la certificazione dell'alfabetizzazione digitale che se posseduta va immediatamente dichiarata e fatta la modalità di accesso andando su quest'altro titolo specifico di assistente tecnico bisognerà mettere l'area di riferimento ora di aree se ne hanno tantissime per inserire un'area non è una cosa affatto semplice bisognerà inserirla ora per inserire l'area noterete che avete veramente una miliare di codici dovete trovare per esempio una volta consultato l'allegato ci nel caso nostro specifico di perito industriale capo tecnico dovete trovare rr 86 qua abbiamo rr 81 dunque dovete scendere perché di solito in ordine cronologico rr 84 dunque ancora più in basso rr 86 ecco rr 86 elettronico industriale e riferito a quel tipo di diploma ce ne possono essere altri molto simili tipo elettronico per le telecomunicazioni dove deve essere un indirizzo per le telecomunicazioni dunque si clicca su questo codice si dirà quanto si è conseguito di voto per il titolo che è lo stesso titolo di accesso e dunque si farà inserisci inserendo questo titolo si avrà la possibilità di fare l'assistente tecnico proprio nell'area specifica rr 86 bisogna fare particolarmente attenzione perché se si sbaglia l'area e questo è un problema notevole perché questo problema potrebbe inficiare non la domanda intera ma l'inserimento nel profilo terza e ultima domanda della nostra rubrica domanda risponde e il profilo riferita al profilo collaboratore scolastico se si hanno due titoli di cui uno di qualifica diciamo professionale dunque con tre anni di scuole superiore con esame di stato che ha un voto maggiore rispetto al diploma di maturità maturità quinquennale quale dei due titoli va inserito sicuramente quello diciamo col maggior punteggio perché da un accesso maggiore dunque in questo caso quello di qualifica e per cui noterete che nell'inserimento il diploma di qualifica triennale è uno dei titoli che si può mettere oltre al titolo di maestro d'arte oppure al diploma di maturità dunque conviene mettere il diploma di qualifica triennale e non quello di quinquennale perché quello quinquennale è stato preso con un voto più basso e dunque è meglio ottenere un punteggio che poi vedete in decimi più alto in questa fase per il collaboratore scolastico non c'è il riferimento alla certificazione di digitale dell'alfabetizzazione digitale cioè la certificazione internazionale dell'alfabetizzazione digitale speriamo che le nostre risposte alle vostre domande siano diciamo cosa utile seguiteci nei nostri canali facebook e youtube perché faremo delle dirette anche mirate alla per l'inserimento nelle gradatorie di istituto terza fascia del personale ada per il triennio 2024 2027 arrivederci grazie a tutti